Buongiorno a tutti. Oggi voglio raccontarvi una storia. Oggi voglio parlarvi del mio amico Marco. Marco si sentiva solo, solo con la sua timidezza, solo con i problemi di un adolescente che si trova ad affrontare la vita, solo con se stesso. Chiuso nella cameretta della sua anima che non riusciva e non voleva aprire a nessuno. Fuori, lì dove la primavera gioca con gli altri e dove il sole è l'amico di tutti, Marco non trovava un posto libero su quella panchina a fianco ad un amico con cui parlare. Non vedeva uno spiraio di luce se non quella che gli altri usavano per proiettare le sue visioni. Gli altri, gente senza volto e forse senza anima. Gli altri che lo criticavano senza conoscerlo, che devastavano la sua anima senza aver mai provato ad entrarci, senza nemmeno essersi mai fermati sull'uscio. Marco decise quindi di rifugiarsi nella sua intimità. Decide di rifugiarsi nei social, quell'angolo remoto, lontano dal mondo, lontano da tutte le panchine relazionali, dove crede di poter inanellare le sue emozioni, i suoi sentimenti e le sue opinioni. Crede. Marco si rifugia nei social perché lì trovava le sue panchine relazionali. Alcune colorate, altre grigie. Gli pareva un modo indolore per esorcizzare la sua solitudine. Forse un escamotage per immaginare quel fluido magico che scorre tra un'opinione e il suo contrario. Non capisce però che lo schermo, il monitor, gli oscura le emozioni, gli copre la mimica. Lo smartphone di ultima generazione entra nelle nostre vite, ma in realtà cos'è? È solo un'illusione che trasforma una somma di grafemi in una sorta di comunicazione, senza lo sguardo complice delle emozioni. Il nostro Marco saprebbe e vorrebbe parlare, ma ha bisogno di quel muro, quel muro luminoso attraverso il quale riesce ad essere sempre solo io ed ego. Il primo social della storia fu Six Degrees, ma il primo a prendere il nome di social network fu Free Handster, nato nel marzo del 2002, sul quale già si potevano condividere foto, video, messaggi, come il nostro Instagram. Ebbene sì, venti anni fa iniziarono a prendere i piedi social, iniziarono ad entrare nelle nostre vite senza che ce ne accorgessimo. Oggigiorno tutti noi usiamo i mezzi tecnologici per comunicare, tutti noi mandiamo un messaggio su Whatsapp, facciamo gli auguri di buon compleanno ai nostri amici su Facebook, postiamo foto e video su Instagram. Tutti quanti, quotidianamente lo facciamo tutti, chi più e chi meno. Ed è diventata un'azione talmente abitudinaria che ormai non ci facciamo più attenzione. Ce ne accorgiamo paradossalmente solo quando non possiamo farlo, quando ad esempio il nostro telefono è scarico oppure non abbiamo internet. Siamo immersi in questa nuova realtà, così come un palombaro si immerge nei fondi marini per cercare tesori nascosti. Ma noi cos'è che cerchiamo veramente? Noi stessi oppure un modo per sentirci meno soli? Al di là di quello schermo ci sono milioni di panchine relazionali, di luoghi di prossimità, esse annullano le barriere del tempo e dello spazio. Nel mondo di oggi l'immediatezza diventa un valore e il tempo che sempre in calza diventa lo sconfitto nella pista delle occasioni. Basti pensare a quando si è diventato immediato comunicare qualsiasi cosa. Prima si usavano lettere che dal tempo di spedizione fino alla risposta richiedevano giorni, settimane, mesi di tempo. Oggi basta meno di un secondo. Provate ad immaginare il mondo il secolo scorso, anzi 40-50 anni fa. Avere amici al di fuori del proprio quartiere, della propria città, del proprio paese era qualcosa di insolito. Oggi invece la comunicazione virtuale ci permette di ampliare la nostra cerchia di amici in maniera esponenziale, riuscendo a stringere rapporti con persone dall'altra parte del mondo. I social danno a tutti l'opportunità di dire la propria opinione. I social danno a tutti l'occasione di trovare l'anima gemella oppure l'amico perfetto che sa ascoltarci e sa capirci. Che esso sia in Cina, in America o in qualsiasi altra parte del mondo. In particolare durante l'ultimo periodo, durante il quale tutti eravamo confinati nelle nostre abitazioni, si è capito quanto veramente i social siano importanti per uccidere la solitudine. In quanti di noi in questa sala durante il lockdown abbiamo scaricato app come house party e abbiamo passato intere notti a parlare faccia a faccia con i nostri amici, come se l'avessimo di fronte. Però, come esiste il giorno e esiste anche la notte, esistono le cose più belle, gli aspetti più affascinanti ed intriganti di questo mondo e ciò che riesce a rovinarlo completamente. Ovviamente dipende tutto dall'uso che se ne fa. Prima ho detto che i social danno una possibilità a tutti. Questa è una cosa bella, è una cosa positiva, però tanto quanto negativa, poiché ovviamente c'è chi ne fa un uso improprio. Essendo apportata di tutti, nei social tutti possono dire la propria opinione. Però, talvolta, non si comprende la differenza tra opinione e giudizio, poiché dietro ad una tastiera può prendere voce la parte peggiore di ognuno. Questo perché è più facile nascondersi dietro una foto o ad un nome che non è il nostro per denigrare chi all'apparenza sembra più debole. Le violenze del bullo precedentemente erano più fisiche che psicologiche, mentre i social hanno accentuato quelle psicologiche. infatti oggi si parla sempre più di cyberbullismo che di bullismo. I famosi leoni da tastiera assillano con incessanti prese in giro il ragazzo diverso, il ragazzo strano, come può sembrare un ragazzo sovrappeso oppure un ragazzo timido. Tra i vantaggi già citati prima occupa un ruolo fondamentale la velocità con la quale vengono diffuse le informazioni, ma con altrettanta velocità vengono divulgate le famose fake news, che alle volte sono innocue, ma possono diventare vere e proprie valanche di cattiva informazione e pseudocertezze. Comunicare, al tempo dei social, è un modo per uccidere la solitudine. Per tutti è l'entrata nell'immenso supermarket della conoscenza. Per molti è un modo per allargare gli orizzonti e trovare nuove panchine relazionali. Così come in un supermarket ci si entra per acquistare ciò che ci serve, i social mettono a nostra disposizione un bagaglio culturale immenso che a lungo andare ha sostituito abitudini ormai tramontate come sfogliare un giornale, consultare un'enciclopedia, un libro e tutto ciò di cui soffrivamo prima per arricchire il nostro bagaglio culturale. Per dissetare la nostra sete di coscienza è ormai automatico aprire Google, digitare ciò che vogliamo sapere e con un click ci troviamo di fronte ad un mare di informazioni. La domanda quindi sorge spontanea. I social possono essere considerati come un'evoluzione oppure sono considerabili solo come un'evoluzione. A bella scelta. Grazie.